Buongiorno, io sto preparando un esame per due settimane, al massimo lo dirò tra un mese, però volevo rubarvi solamente due minuti per dirvi che nella mia zona, a ventimiano, c'è una cooperativa che si chiama la sinergica, che si occupa di dare lavoro in agricoltura a più di menti ragazzi autistici. Ecco, perché ve lo dico? Perché per ricordarvi che il lavoro per tutti, ma soprattutto per loro, è un'occasione per ritrovare quella libertà magari tra una terapia e un'altra. Il lavoro è uno strumento che potrebbe aiutare ad avere una vita il più possibile autonoma e indipendente, ma soprattutto per lavoro per chiunque ci restituisce quella dignità che troppe volte la società alle volte ci sogna. Quindi, come stanno facendo tante in queste ore su Facebook, anche io sto con la cooperativa sinergica di ventimiano e con gli ostolani coraggiosi. Un abbraccio e io sono scienze politiche, mamma mia. Ciao!